Buongiorno Friuli, benvenuti a una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano l'Udinese. Ci collegheremo da Palermo, dove la squadra bianconera è già atterrata per preparare la sfida di domani contro il Rosanero. E poi ovviamente analizzeremo anche le varie vicende che riguardano il calcio mercato. Ma andiamo con ordine, partiamo dal messaggero Veneto che apre con il caso. Udinese a Palermo, Totò resta a casa, capitano di Natale, non è tra i 22 partiti per la Sicilia. In settimana si è sempre allenato a parte, ma lui pensava di esserci. È nato a quanto pare questo equivoco che verrà chiarito da mister Colantone in conferenza stampa questo pomeriggio alle ore 14. Noi ovviamente restiamo sempre fedeli a quella che è la linea della società, secondo la quale Totò non è partito per Palermo in virtù di un affaticamento al flessore, e un affaticamento muscolare che ne ha impedito la convocazione. Poi ovviamente ulteriori chiarimenti, se necessari, verranno dati in conferenza stampa. Domani va in onda la sfida della paura, scrive il messaggero Pozzo e Zamparini. Dall'Europa alla zona retrocessione, i tempi sono cambiati. Sarà la partita della paura al Barbera? Si chiede il messaggero. Domanda lecita se guardiamo alle posizioni di bassa classifica di entrambe le squadre, soprattutto alle premesse ambientali. Nelle ultime settimane il Palermo ha vissuto di tutto, dall'ammutinamento dei propri giocatori nei confronti di Balardini, all'arrivo dell'esordiente Schelotto, mentre le due figuracce collezionate all'Udinese contro Carpi e Juventus hanno portato lo spettro del ritiro. Insomma, situazioni abbastanza tese. Tornando alla paura, va anche ricordato che fu l'Udinese a sentenziare la retrocessione dei Rosanero nel 2013, quando Benassia segnò il gol vittoria, il 2-3, ennesimo trionfo nell'ultima cavalcata europea dei bianconeri. Gli avversari, mister Schelotto dice, lavoriamo sulla mentalità, abbiamo lavorato sul tentativo di inculcare alla squadra la nostra mentalità e vogliamo fare un gran lavoro per portare la squadra alla salvezza. Ho scelto Palermo per avere la possibilità di allenare in Serie A, uno dei tornei migliori al mondo. Non vedo l'ora di incontrare Juventus, Milan e Inter. Facendo una battuta avrebbe da dire l'importante sarebbe arrivarci contro queste squadre conoscendo la bulimia di Zamparini nei confronti dei suoi allenatori. Dicevamo anche di un altro guaio societario che è piombato nella serata di ieri sul Palermo, il guaio di Bala, Zamparini ha ricevuto questa brutta notizia, l'alta corte di Manchester ha stabilito che i Rosanero dovranno pagare 15 milioni al fondo che aiutò i siciliani a comprare il talentino di Bala, ora la Juve, dal Cordoba. E quindi una sentenza importante, soprattutto per le casse dei Rosanero. Vediamo qual è il giocatore più interessante del Palermo secondo il messaggero Veneto e secondo il nostro Marco Canciani. Gattuso lo bocciò, ma Vasquez è l'uomo chiave dei siciliani. Franco Vasquez, ormai anche stabilmente nel giro della Nazionale Azzurra, doppio passaporto per lui, Italo-Argentino. Vasquez è il giocatore, direi, assolutamente più interessante a disposizione di Schelotto. Franco Damian Vasquez, detto il mudo, il taciturno, è il calciatore tecnicamente più valido. Acquistato all'allora di essere Rosanero Soiano nel gennaio del 2012 dal Belgrano, club di prima divisione argentina, per una cifra intorno ai 5 milioni, l'argentino nella sua prima stagione non convince e fatica ad adattarsi ai ritmi del nostro calcio e a fine campionato viene ceduto in prestito al Raio Vallecano. Nel 2013 rientra a Palermo, ma il nuovo tecnico Rosanero Gattuso non ne apprezza le qualità e lo esclude dalla Rosa. Cambia tutto con il rovesciamento di Panchina, che come vi dicevamo è un abitué in casa Palermo, e lì nasce anche la grandissima affinità con Di Bala. Nella passata stagione, anche grazie all'intesa con il gemello Di Bala, Vasquez è definitivamente esploso. È il campionato vissuto da protagonista, 10 reti, 11 assist, è un numero impressionante di traverse pali colpiti, qui non viene enunciata questa statistica, però è un dato di fatto, gli è balza la convocazione del Citi Conte per la nazionale italiana. Insomma, un giocatore assolutamente interessante, come alle ore 11, i giocatori interessanti ne potrete vedere tantissimi, qui su Udinese TV, perché scende in campo la primavera, giocherà a Perugia, una partita importante per la formazione di Mattiusi, che vuole riprendersi dopo la sconfitta interna con il Milan, Bianconeri che tanto per cambiare avrebbe da dire sono in emergenza, squalifica di Pontisso, Coppolaro convocato in prima squadra e poi ci sono le assenze importanti di Armenagas, di Marco Matic, che oramai è lontano, quelle che sono le dinamiche della primavera, Amoroso, Prampolini, Mincione e Dani. Siamo contati, ho convocato anche gli allievi Nicoloso e Nadalini, ma questa situazione non deve essere un alibi. Queste le parole di Mattiusi, vi ricordo ore 11 in diretta, qui su questo canale, su Udinese TV. Ieri è stata anche la giornata e la presentazione di Kuzmanovic, obiettivo Kuz risalire la classifica, prima giornata da calciatore l'Udinese per il centrocampista serbo, mi mancano dieci giorni alla partita con la Lazio, per quella volta sarò pronto, il ruolo preferito, posso giocare in tutte e tre le posizioni, dalla mediana mi va bene tutto, la scelta deve farla solo. L'allenatore e poi ancora, trattativa Lampo, il procuratore mi ha parlato benissimo di questa piazza, sono felice di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Kuzmanovic che giunge qui in Friuli in prestito con diritto di riscatto, per sei mesi starà lui poi appunto convincere la società a decidere di attuare questo eventuale riscatto. Andiamo proprio ad ascoltarlo, però Zraddko Kuzmanovic, ieri in conferenza stampa, una piccola pillola del calciatore serbo. Sono contento che sono qua a Ludine, una società molto importante, sono molto contento e in questo momento sono molto felice. Sì, certo, c'è l'esperienza in Italia, perché come avete detto, ho giocato anche a Fiorentina e anche all'Inter, sicuramente sono tornato la terza volta e sono molto contento. Sì, io voglio fare tutto bene qua, anche per questi sei mesi che sono qua e dopo vediamo sicuramente che sono arrivato qua con la grande voglia per dimostrare il mio valore e per fare molto molto bene. Io conosco l'unilese bene perché ho giocato tante volte qua con le altre società e sicuramente conosco l'Italia, conosco tutto. I miei obiettivi è fare bene qua, aiutare la squadra subito. Questo è importante, inserirmi bene nella squadra. Sicuramente, come ho detto, sono arrivato con tanta tanta voglia qua e perché sono venuto ancora in Italia perché il mio preoccupatore, Marco, mi ha sempre detto che è una società molto brava, si lavora molto molto bene qua e dopo questo ho detto di sì e sicuramente sono molto felice. Queste le parole di Kuzmanovic, andiamo a leggere anche quelle dette da Giaretta, si tratta di un giocatore importante, siamo felici che abbia scelto noi nonostante avesse altre richieste, contiamo che il suo livello di tecnica e di esperienza ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi. Kuzmanovic che ha scelto la numero 22 perché il numero che indossava già al Basilea è comunque un numero che lo interessa molto e poi eccolo qui, mentre solleva la sciarpa dell'Udinese nella magnifica cornice dello Stadio Friuli. Non stiamo perfezionando il collegamento con Stefano Giovampietto direttamente da Palermo prima di andare proprio da Stefano un ultimissimo rapido sguardo al messaggero che parla di mercato, la Samp fa sul serio con Fernandes sarebbe lui il sostituto di Soriano dai blucerchiati potrebbe arrivare Kerstic questa l'offerta della formazione di Massimo Ferrero vedremo se sarà effettivamente così. E' tutto pronto per collegarci da Palermo ne approfitto per dare il buongiorno a Stefano Giovampietto e a Maurizio Ferrari collegati appunto dal capoluogo siciliano. Ciao ragazzi! Eh sì, ciao Fernando, buongiorno Fernando, innanzitutto a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando siamo qui proprio dal Grand Hotel Federico II nel cuore, nel centro di Palermo e lo abbiamo capito subito ieri arrivando qui non soltanto per il clima più clemente come abbiamo parlato con Giorgia durante il TG ma anche per l'odore inconfondibile di arancini e di delizie siciliani per la strada oltre che ovviamente di cannoli siciliani ma sappiamo che non siamo qui per parlare di questo siamo qui per parlare delle condizioni soprattutto mentali del gruppo dell'Udinese perché comunque si è scelto di partire un giorno prima di arrivare qui a Palermo lo abbiamo sentito proprio ieri dal direttore sportivo Giaretta per cementare il gruppo un gruppo che comunque è molto unito e molto coeso e anche per dare quella scossa alla squadra a far capire che il momento è delicato è un momento importante non si può assolutamente sbagliare contro il Palermo ieri è stata la giornata del trasferimento siamo arrivati qui poi come detto dopo la cena che si è tenuta intorno alle 19.45 i ragazzi hanno preso possesso delle loro stanze alternandosi con sedute di massaggi con i fisioterapisti i preparatori atletici per rimettere un po' in sesto quella che è la loro muscolatura e adesso presentarsi alla giornata di oggi che è una giornata di puro avvicinamento alla partita visto comunque che è la trasferta più lunga del 19 che sosterrà l'Udinese anche la partenza prima al di là del significato come abbiamo detto di cementare il gruppo è importante proprio per ricaricare le batterie e prepararsi bene alla sfida di domenica delle ore 15 quindi oggi ci sarà questa giornata scandita da orari ben precisi alle ore 9 la sveglia tassativa finale per i giocatori che entro le 9.30 dovranno completare per così dire le operazioni di colazione e presentarsi giù nella hall qui del Grand Hotel dove il Pullman li scorterà al centro sportivo universitario di via Altofonte numero 80 e qui ci sarà la rifinitura il campo che è stato trovato molto vicino proprio all'hotel abbiamo visto con l'ausilio dei mezzi tecnologici con Google Maps che sono 4 km dall'hotel quindi una trasferta per così dire tra virgolette molto molto facile e si arriverà in questo campo per una seduta di rifinitura come detto noi la seguiremo cercheremo di riprendere il più possibile ovvero il riscaldamento perché crediamo poi che Colantuono darà ampio spazio alla fase tattica e a quello che sarà il modulo che affronterà il Palermo ancora idee poco chiare su quello che sarà il Palermo 4-3-3 3-4-3-2-1 anche ancora la difesa 3 con un 3-4-1-2 i numeri si sprecano non sto impazzendo anche se l'orario è molto presto e quindi potrebbe essere così sono molti i moduli che potrebbe alternare il Palermo la certezza dell'Udinese è invece questo 3-5-2 con Carnezis tra i pali la difesa che non dovrebbe subire novità anche se Ertò ci spera fino in fondo ha una maglia da titolare ma sappiamo anche al centro di voci di mercato quindi dovrebbero giocare Vaghe Felipe Nepiris a centrocampo Bruno Fernandes va verso la ripresa di una maglia titolare a discapito di Tura in attesa di Kuzmanovic che sarà pronto per la Lazio poi gli altri 4 saranno sempre gli stessi Wittmer, Badu, Lodi e Edenilson davanti Terol l'unico sicuro del posto grande corsa per affiancarlo Scalpi da Zapata Perizza sembrava sembra ancora ovviamente il più indiziato a iniziare dal primo minuto a dare poi il ricambio a Zapata ma occhio perché ieri lo avevamo visto in allenamento in partida è eccezionale lo ha anche elogiato il direttore Giaretta Aguirre è in grande spolvero e chissà magari Fernando potrebbe ritagliarsi uno spazio importante poi nella giornata che prosegue ci sarà il pranzo per i ragazzi alle 12.45 12.30 poi alle 14 per la conferenza ci sarà l'appuntamento la manderemo in onda su Udinese TV alle 16.40 mi raccomando un appuntamento imprendibile parlerà con l'Antuono tra l'altro stiamo organizzando visto che nella tua trasmissione di ieri c'è arrivato l'appello della zebretta di San Daniele del club che arriverà qui a Palermo anche in massa di incontrare la squadra stiamo prendendo contatti con il direttivo per effettuarlo insomma questo incontro e magari anche dare spazio alle immagini dei tifosi che vorranno incontrare la squadra detto questo si concluderà poi la giornata con la riunità tecnica delle 19.30 e poi con la cena in attesa del risveglio di domani che condurrà la squadra Renzo Barbera di Palermo partita importantissima da non fallire come ha detto ieri sempre Giaretta quanto meno da pareggiare anche se la voglia matta è quella di vincere e di tornare su in classifica dopo essere un po' scivolati più o meno tutto qui dal Grand Hotel Federico II ti restituisco la linea in attesa di tutti gli altri aggiornamenti della giornata a cominciare proprio dalla seduta di rifinitura grazie mille Stefano un saluto anche al buon Franco Snider operatore che si è dovuto appunto svegliare prestissimo così come noi per permettere a voi che ci seguite di avere questo servizio assolutamente in esclusiva direttamente da Palermo ma torniamo ancora sul gazzettino che parla di Kuzmanovic che come abbiamo detto è stato presentato ieri in sala stampa Kuz il tutto campista lo definisce così il gazzettino crescere e divertire poi chiusura su Totò Totò di Natale non parte DS Giaretta dice non sta bene gli avversari debutta a Schelotto il dubbio Cristante davvero diversi dubbi di formazione per quanto riguarda la squadra Rosa Nero il modulo adottato dovrebbe essere il 4-3-3 utilizzato anche con gli argentini del Lanus sotto lo sguardo del presidente Zamparini che ha assistito alla seduta Schelotto in avanti ha schierato Franco Vasquez leggermente sulla destra Quaison sulla sinistra e come punta centrale Alberto Gilardino un tridente a tutto tondo con la star della squadra Vasquez che dovrà adattarsi al ruolo di esterno confermata la difesa 4 l'unico Rebus resta in cabina di regia ed effettivamente anche qui da capire se Vasquez agirà effettivamente da esterno oppure no lui che nasce trequartista lui che è forse uno dei trequartisti più interessanti nel nostro campionato adattato esterno sembra un attimino una violenza vera e propria nei confronti di questo giocatore il mercato Sampranocchia blocca Ertò potrebbe esserci una frenata nella trattativa che dovrebbe portare Toma Ertò in blucerchiato perché Ranocchia sembra essere pronto a passare da Milano a Genova l'ex capitano Nerazzurro andrà a Genova in prestito e affiancherà un altro nuovo arrivo alla corte del presidente Ferrero si tratta il difensore centrale Milan Skriniar un classe 95 di cui si dice un gran bene due piloni per la difesa quindi tradotto si blocca la trattativa per il passaggio in blucerchiato di Tomerto il difensore francese che ha svolto le visite di controllo a Roma l'esito ha dimostrato l'avvenuta guarigione al momento non si muoverà da Udine con l'Udinese che per ora dirà addio ai 4-5 milioni di euro che la trattativa avrebbe garantito si parla poi anche di acquisti in entrata forte sempre il nome di Valomberami dipende però tutto la cessione di Mario Suarez al Watford che dovrebbe appunto liberare Valomberami verso Udine a inizio settimana si saprà la verità in alternativa si sonda la possibilità di prelevare Rigoni dal Chievo piace pure per Parimete Mai ma al momento si tratta solo di un purparlì arrivano invece conferme dalla Croazia lo staff bianconero piace Andrea Balic il 97 ribattezzato il Pirlo Croato l'offerta si aggira sui 4 milioni di euro staremo a vedere allora come si evolverà questa situazione per quanto riguarda l'Udinese andiamo adesso a dare un'occhiata a quelli che sono i quotidiani sportivi nazionali anzi prima facciamo una piccola analisi sul Pordenone torniamo indietro sul messaggero Veneto perché è giusto parlare anche del Pordenone che sarà in campo quest'oggi alle 15 sfida importante con l'Albino Leffe Pordenone con Martin a caccia del Triss ufficializzato il terzino subito in campo oggi contro l'Albino Leffe siamo un bel gruppo sono qui su consiglio di Pedersoli eccola qui la squadra che dovrebbe schierare mister Tedino Tomei in porta Boniotti Stefani Ingegneri e Martin subito schierato titolare Mandorlini Pedersoli e Pasa e poi Cattaneo Filippini e Finocchio ancora al Pordenone nonostante le voci di mercato Albino Leffe che dovrebbe rispondere con Amadori Gianola Vinetot Checucci Mucchetti Legra Sperini Danti e Cortonovis Girardi e Soncin davanti questa è la formazione allenata da Sesia oggi dunque alle 15 torna in campo anche la formazione dei Ramarri andiamo adesso sulla gazzetta dello sport che apre con il mercato Inter scattola Bezzi il mercato entra nel vivo Seguarin sbarca in Cina arriva subito Soriano per il Pocio offerti 3,5 milioni all'anno più bonus potrebbe trasferirsi a Milano già a fine mese altrimenti in estate ma l'urgenza è un regista secondo Alessandro De Calò almeno per quanto riguarda l'Inter in taglio alto i rinforzi di pallotta un faraone a Roma il Scharaui trova casa da Spalletti dunque sembra già fatta per il ritorno in Italia di Stefano il Scharaui non è andata bene la parentesi al Monaco De Laurenti si invece realizza un altro colpo per quanto riguarda il suo Napoli arriva Grassi dell'Atalanta un giovane che abbiamo ammirato anche qui in Friuli non ci ha impressionato particolarmente però di lui si dice un gran bene è fatta per lui ed è tutto su barba ora le concentrazioni del mercato napoletano dalla bufera al Carpi Mancini fa pace con Sarri e 200 gare in A con i Nerazzurri il tecnico accetto le scuse di Maurizio solo Herrera ha più panchine di lui in taglio basso ancora Abramovic vuole il mister bianconero Juve a Londra sono sicuri allegri prima scelta del Chelsea poi l'allenatore del Bayern Guardiola è conteso panchini a Manchester che derby United contro City per Pep Guardiola oggi torna in campo anche la Serie A si parte con Frosione Atalanta alle 18 poi subito il Milan ad Empoli una sfida storicamente difficile per i colori rossoneri Milan attento all'ex Saponara l'Europa passa per Empoli Carlo Sbacca guiderà l'attacco dei rossoneri con Luiz Adriano che dovrebbe partire alla panchina è saltata infatti la trattativa che doveva portare l'attaccante brasiliano in Cina Guai al Palermo l'abbiamo letto anche prima Di Bala Zamparini deve 15 milioni Ballardini invece farà causa a Sorrentino Reo secondo l'Oramai ex tecnico di averlo aggredito nella vigilia della gara con il Chiuverona l'Inter gioca al raddoppio e in Porlavezzi Guarincina si scalda e Soriano è più vicino incontro con il Pocio si va verso l'intesa i cinesi offrono 13 milioni per il colombiano se parte assalto al Sampdoriano che direi è uno dei sogni proibiti di gran parte delle big italiane così la prossima Inter Andanovic D'Ambrosio Miranda Murillo Tejes Medel Soriano Lavezzi Jovetic e Perisic con Icardi unico unica punta vertice alla pinetina Icardi torna a titolare Max incontro da piano per parlare di mercato e non solo Toir in Italia il 20 febbraio c'è un nuovo direttore generale Gardini è in pole c'è da scegliere un nuovo direttore generale mentre Toir monitora tutto dalla Cina andiamo adesso a dare un'occhiata al Corriere dello Sport è tutto sport velocemente anche qui il Corriere apre con Juve un altro di Bala Torino anche il nipote di Paolo si chiama Lautaro a 16 anni una capigliatura che ha ancora per fortuna tutto il tempo del mondo per rivedere gioca a centrocampo e si è già allenato con gli under 17 in taglio alto il Milan chiede strada e saluta il Sharawi vicino il Gazi per i rossoneri mentre il Faraone è pronto a prodare a Roma il Frosione vuole i punti l'Atalanta cerca la svolta questo pomeriggio e poi il caso Mancini accetto le scuse di Sarri speriamo che serva da esempio di Francesco a tu per tu con il tecnico del Sassuolo a Zeman devo tutto il suo calcio è super lo scudetto vinto con la Roma fu meraviglioso Iguain ricorda quel batistuta nessuno però è forte come Zidane infine la Serie B la Salernitana vince i tifosi contro Lotito e direi che cambiano le società però la versione dei tifosi verso Lotito è sempre simile De Sciglio Juve Casares Milan cosa ne dite scrive Tutto Sport il Milan spinge per chiudere lo scambio ma Allegri non vorrebbe perdere l'uruguaiano adesso lettori vengono invitati ad esprimere le loro parere su Tutto Sport Marotta sfida il Napoli per Basoer nuovo Pogba e poi in taglio alto Mancini che accetta le scuse di Sarri e non c'è pace però per il tecnico del Napoli l'ha denunciato infatti la DC che era stata messa in ballo proprio da Sarri nel finale di partita chiudiamo con Mijailovic che vuole riprendersi il futuro questa sera contro l'Empoli e Ballardini che ora querela Sorrentino era questa l'ultima notizia della nostra segna stampa vi ricordo alle ore 14 la conferenza stampa del mister andrà in diretta qui su Udinese TV e poi nelle prossime ore tantissimi eventi per quanto riguarda il calcio giocato a partire dalle 11 quindi davvero tra poco con la primavera che giocherà in diretta qui su Udinese TV nella difficile gara con il Perugia e poi domani seguiremo con voi come al solito tutte le emozioni della gara di Palermo a me non resta che salutarvi e augurarvi come al solito buongiorno a Friuli a me non resta che 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 a me non resta che